Sono una persona di successo. Il mio lavoro, gli obiettivi, gli affari ed il mio team assumono una parte fondamentale ed importante della mia vita e mi rendono quasi assolutamente felice. Già, quasi, perché ogni giorno viene sera e sono stanco di rimanere solo. Anch'io vorrei conoscere una persona che illumini le mie giornate. In amore non esistono coincidenze. Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Sei single? Vuoi conoscere persone nuove? Vieni a trovarci! Siamo in corso delle province 170 a Catania. Ti aiuteremo a dare una svolta alla tua vita. Siamo una realtà consolidata e ti offriamo un'esperienza piena, completa ed unica. Un network serio e specializzato che ti garantisce la massima sicurezza nel realizzare il tuo sogno, seguendoti in un percorso che ti porterà alla tua completa felicità. Fissa un appuntamento con una consulente meeting. Parla lì di te, dei tuoi progetti e delle tue esigenze. Lei individuerà il profilo più adatto a te, magari parlandoti subito delle persone che potresti conoscere. Non stare lì seduto ad aspettare. Fa in modo che accada qualcosa di bello. Meeting. L'amore ti aspetta.